ciao a tutti ragazzi e ragazze oggi andremo a provare qualche gioco quindi questo qua è il primo aspettiamo aspettiamo ecco adesso questo qua non mi piace sono solo di livello unici perché praticamente non ci gioco mai praticamente me ne sono cancellati tantissimi due tre adesso speriamo di beccarlo ma già da no dico da dio sì adesso passiamo al prossimo gioco che vi faccio vedere questo dobbiamo tipo far morire questo qua se non puoi uccidere la persona e dobbiamo farla andare poi ci dobbiamo fare gli scambetti adesso proviamo dai questo qua e poi concluderò il video guardate dai 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 andiamo giù bene poi ho fatto anche questo 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 qua l'ha fatto mia sorella pia comunque spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina ci vediamo al prossimo video 1 2 3 come on come on come on ha Ah!